ragazzi qua siamo sperduti in campagna e ora risolviamo la situazione si pronto mi sente? si si che qua c'è un amico che è svenuto e non so cosa fare grazie si pronto io sono qua con un mio amico ma è svenuto non so cosa e sono preoccupato città coreano no è svenuto come si dorme diciamo ma te l'hai visto scuotere e tremare? no 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 diciamo che un po' ha perso i sensi mi sentiva già debole e poi l'ho visto tipo fatto ma che tu sappi è malato caro medicina no medicina no va bene quindi ha camminato fino lì poi è svenuto improvvisamente si si non so come ha fatto anche io sono tutto confuso ok ok grazie mille signore veramente aspettiamo e vieni l'ambulanza è qua a prenderci e chi ci vuole di ritornare a riccione a piedi guarda dove siamo noi qua ma dove siamo noi qua guarda ma mi dici che 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 stai dopo un po' una decenni venuti si parla sto bene e vado via ragazzi siamo ancora in ospedale e guardate qua poverino cazzo ragazzi alla fine l'ambulanza ci ha comparato fino all'assessore di riccione e infatti